E sempre da Roma andiamo a sentire l'intervista a Giacomo Stucchi, neopresidente del Copasir, il Comitato per i Servizi Segreti. Giacomo Stucchi è stato eletto presidente del Copasir, che cosa intende fare nel suo nuovo ruolo? Applicare quella che è la norma e quindi svolgere tutte quelle azioni di controllo sulla sicurezza della Repubblica, in modo particolare sul funzionamento dei servizi e tutte quelle strutture che sovrintendono la sicurezza di tutti i cittadini, monitorando il fatto che non ci siano strutture e che tutto funzioni al meglio. Ma la Lega Nord non voleva nessuna presidenza di commissione, almeno così aveva dichiarato prima di questa nomina. E invece? Ma nella Lega non voleva nessuna presidenza, evidentemente però per guidare determinati organismi delicati è stato ritenuto che servissero, diciamo così, persone con una certa esperienza, persone collaudate e che all'interno della Lega ci potessero essere figure di questo tipo. Non parlo solo da sottoscritto, naturalmente. E quindi un accordo complessivo che riguarda le presidenze che spettano le opposizioni alla Lega Nord è toccato il Coppa Cirino. Ha quindi un significato particolare questa decisione nell'equilibrio parlamentare? Beh, noi siamo l'opposizione e rimaniamo l'opposizione. Sicuramente siamo un'opposizione responsabile, non siamo un'opposizione che gioca a distruggere, siamo un'opposizione che ritiene giusto che ci sia quello spirito di controllo, quella volontà di controllo, quella necessità di controllo sull'operato del Governo ma anche sull'operato di tutti gli organismi che dipendono dal Governo.